Il fascino eterno della Mitica 500, autosimbolo dell'Italia in tutto il mondo, ha brillato grazie a 80 gioiellini tirati a lucido lungo le strade del Borgo dei Borghi e della Valtrebbia. In tanti hanno ammirato e fotografato questi capolavori senza tempo e chi frequenta il centro socio-occupazionale La Tartaruga di Bobbio ha potuto anche farci un giro in anteprima. Al centro, che si occupa dell'inserimento sociale e lavorativo di persone in fragilità, è stato devoluto, infatti, parte del ricavato delle quote dei partecipanti alla giornata arrivati da tutta Italia. Altri aiuti saranno consegnati a Unicef di Piacenza e all'ANXA, Associazione Nazionale dei Genitori di Soggetti Autistici. A organizzare l'evento, ritornato ieri dopo la pausa forzata del Covid, è stato il coordinamento di Piacenza del Fiat 500 con il patrocinio del Club Italiano. I partecipanti hanno anche potuto visitare il paese con le guide messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Un vero successo.